Temptation, Island. Ecco le prime due copie ufficiali del nuovo regolamento. I provini di Temptation, Island, 2017 sono terminati, dunque la redazione già conosce i nomi delle sei copie, tre famose ovvero provenienti da uomini e donne e tre non famose, delle dodici tentatrici e dei dodici tentatori che prenderanno parte alla quarta edizione del reality show per copie di Maria De Filippi. Attualmente, però, sono alcuni nomi sono arrivati a noi nonostante il segreto mantenuto dagli autori. Prima parte. Clarissa Marchese e Federico Gregucci mettono alla prova il loro amore. Sappiamo con certezza ormai che uno dei tentatori sarà il bellissimo ex corteggiatore Andrea Melchiorre, che tra l'altro fino a qualche mese fa sembrava essersi fidanzato, mentre una delle copie che a quanto pare parteciperanno è stata per noi una vera sorpresa. Stando a rumors insistenti, pare che l'ex Miss Italia Clarissa Marchese e il suo fidanzato Federico Gregucci abbiano deciso di partecipare al reality, spinti un po' dalla popolarità, un po' dalla voglia di mettersi alla prova dopo aver passato gli ultimi mesi sempre insieme. Seconda parte. Luca Onestini e Soleil Sorge riusciranno a conquistare le simpatie del pubblico? Sapete già l'abbiamo scritto in più articoli che anche Luca Onestini e Soleil Sorge sono dati per certi, ma nel loro caso a molti la scelta appare alquanto azzardata, visto che staranno insieme da nemmeno un mese quando verranno separati per le registrazioni. Il beltronista e la sua fidanzata modella non sembrano però preoccuparsi delle possibili conseguenze della loro scelta, e anzi nel corso del video o del dopo. Scelta andato in onda di recente si sono mostrati molti a loro agio decisamente sciolti davanti alle telecamere. Ultima parte. Nuovo regolamento e una vecchia coppia in gara. Mistero assoluto. Vige invece sulla terza coppia in questione, che sarà una coppia di lungo corso, ovvero che sta insieme da più di un anno. Ormai appare accantonata l'ipotesi Andrea Damante e Giulia Delellis, mentre molti sperano in un ritorno sulle scelte di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. In realtà questa coppia, oltre a essere poco televisiva e a non amare mettersi in mostra, avrebbe anche troppi impegni quest'estate per poter essere presente. Resta invece ancora valida l'ipotesi Fabio Coloricchio e Nicole Mazzocato. Si sa anche che il regolamento è stato molto cambiato, e c'è la possibilità che tentatori e fidanzati dormano assieme. Insomma, ne vedremo davvero delle belle, quindi vi consigliamo di seguire attentamente le prossime news riguardanti Temptation Island, 2017